Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Allora ragazzi, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per questa opportunità concessa, perché io non è che sono io onorato che sto facendo un'intervista con voi. Premetto nel dirti che uso la mascherina perché purtroppo ci è capitata una spiacevole situazione che mio figlio è stato ricoverato in ospedale per bronchiolite e automaticamente uscendo da questa situazione dobbiamo essere noi più tutelati con lui per non portargli, tra virgolette, problemi e anche un semplice raffreddore. Quindi ecco perché c'ho la mascherina nell'intervista con voi che appunto siamo chiusi qua e c'ho la mascherina. Ah è certo. E quindi niente ragazzi, siamo stasera qui con Luigi. Luigi a te, vabbè, voi tutti lo conoscete per la sua pagina Instagram che promuove insomma la sua attività, Go Now, Go Now Store. E siamo noi insomma che ti ringraziamo per aver avuto insomma l'occasione di poter scambiare. Luigi voi parla a suo fatto, io sono convinto che sei stato tu a lanciare la moda del promuovere la propria attività su Instagram. Sei il primo a Napoli che l'ha fatto. Secondo me, sì. Sì, devo dire però che in concomitanza c'era Assunto a Pacifico, Raffiglio Romare Nato. Ah come no? Quindi la grande big signora Assunto, anche lei insomma, iniziamo credo insieme perché i miei primi video sono datati 2016. Se vi fate un giro insomma sulla bacheca vedete che i miei primi video sono datati nel 2016. Nasco con questi video come una sorta di promozione di una televendita negli anni 90 del grande Giorgio Mastrotta e io la riporto in maniera molto esilarante, napoletana, mai volgare, offensiva, proponendo appunto i miei outfit e magari lanciando pure qualche tormentone tipo male capo e compagnia. Però questo nasce da. Vi spiego? Come no eh? Allora, partiamo dal fatto che la storia è abbastanza complicata perché io vengo da un fallimento lavorativo. A 18 anni la mia storia parte da un ragazzo come tutti quanti che ha il sogno di diventare calciatore ma avendo appunto i genitori operai, quindi non potendomi permettere soldi da mio padre che appunto mi apriva qualche attività eccetera eccetera ho iniziato a fare il venditore ambulante, cioè vendevo i vestiti nella macchina. Ovviamente per quello che appunto poteva essere la vendita, quindi agli amici, fuori al bar, la maglietta, la personalizzavo, vendevo la scelta, così il bermuda e compagnia cantante. Mi piaceva sto fatto, no? E sa, non potevo dire vicino a mio padre, dammi qualche capitale per aprire appunto i negozi. Mio padre diceva, io metto una marana sotto i bracci e va affaticato. Certo. A mamma mia prima noi, mio padre, mille euro di stipendio al mese, semplice e grande operaio, non ci ha mai fatto mancare niente, però non potevo appunto pretendere di farmi realizzare questo sogno che avevo di aprire l'attività, di fare il commerciante. Venendo da un contesto di Via Petrarca, dove appunto c'erano questi top imprenditori nel settore moda e abbigliamento, mi ha sempre affascinato questo mondo e mi è sempre piaciuta la moda in generale, che io appunto volevo andarmi a vedere la storia dello stilista, il brand che si portava insomma in quel momento, sa, e mi piaceva molto questa situazione qua. Essendo affascinato da questo mondo imprenditoriale appunto del clothing, dell'abbigliamento, il mio sogno appunto era proprio riuscire a diventare come uno di loro. Io da fedele che sono, perché credo molto in Dio, sai quando mi facevo la chiacchiera con Dio, io la dico così come dice la mia grande amica Stefana Zizolfi, no? Il grande speaker. Quando mi facevo la chiacchiera con Dio dicevo, ah, è piacere, il mio sogno nella vita è diventare un grande top imprenditore nel campo dell'abbigliamento, può piacere, fammi riuscire a diventare questa cosa qua, dato che non sono riuscito a diventare calciatore, perché ero bravino, ero discretamente bravo come calciatore. E appunto iniziai a fare il venditore ambulante. Ovviamente la tua domanda è la tua domanda, perché cominciare a fare l'ambulante e non in un negozio di abbigliamento? Ok. Perché sono stato sempre un po' anarchico, in modo positivo ovviamente nella mia vita, non ho mai voluto sposare le idee del padre padrone, del masto padrone. Non ti trovi la cosa tua, volevi il tuo... No. Sotto masto per intenderci. Perché avevo l'esperienza dei miei parenti che venivano trattati male, soprattutto mio padre, che sai, aveva sempre quella... quella idea di stare sotto a qualcuno e non mi è mai piaciuto. Capisco. Io ho avuto delle violenze mentali, mettiamolo sempre tra virgolette, essendo nato in un contesto come Via Petrarca, che quindi c'era molto classismo, figlio del portiere operaio, figlio dell'imprenditore, ti guardavano sempre in una maniera così. Certo. Dedicai ora uno stato a mio padre, dove dissi abbiamo vinto, va, oggi, perché nascere figlio di papà non è un demerito, anzi è una fortuna e devi saperla sfruttare. Ma nascere da zero figlio di operaio e arrivare a scavalcare i figli di papà è una doppia soddisfazione. Come no? E io gli dissi proprio in questo stato, gli iscrissi a mio padre oggi non è più bisogno di pigliare la mancia o 20 euro che ti arrivano a Pasqua, a Natale e a Capodanno. Non è più bisogno, te la do io. E non puoi capire quanto era mortificante per me vedere le facce dei grandi imprenditori, darti questo 20 euro in maniera, sai, spocchiosa per dire io sono l'imprenditore, tu si lo operai, pigli tu 20 euro. E oggi che non avevamo bisogno più, che mio padre lo possa prendere a lavorare benissimamente con me, sai, è una doppia soddisfazione essere arrivato ancora a nessuna parte perché nella vita è un segmento senza fine, una linea senza fine, puoi sempre fare meglio, puoi sempre andare avanti. Sai, è una bella cosa, ti parlo e mi viene un freedom vuole. Chiaro, non stai avendo anche a me a dire la verità. Sono storie realmente accadute e io sono, tra virgolette, il riscatto del figlio dell'operaio che se vuoi, puoi, se c'hai abnegazione, spirito di sacrificio, voglia e talento, è anche una buona dose di fortuna. Certo. Nella vita puoi riuscire a realizzare tutto ciò che vuoi, da zero, ovviamente con la gavetta. Chiaro. Secondo te, Luigi, come sei riuscito ad avere poi questo successo, aperto il negozio, il primo store? No, allora, per parlare del fallimento, perché noi, io, dopo il venditore ambulante, apri uno store piccolino, un deposito come questo, tra virgolette un ufficetto dove giocavamo a biliardo, a poker, sai, e poi vendivamo i vestiti. Andò benino perché io mi riuscivo a ritagliare lo spazio che, diciamo, della vendita ambulante fuori ai bar, mi inizia a richiamare la cliente, era, guarda, noi siamo in questo deposito, vendiamo qua i vestiti, viene a dirla cattacca. E comunque riscuotemmo un successo discreto. Dopo mi affidai a una persona che mi fece pigliare un prestito e praticamente apri il primo negozio su strada che era a Via Pomeo. Ovviamente non a Via Pomeo principale, ma nell'ultimo tratto, perché non richiedeva la ceditura. Cioè, ero un ragazzino piccolo, mi ero guadagnato quei 2-3 mila euro di capitale, abbinati vicino a un prestito, apri in questa zona un fitto 700 euro al mese, che prima per me erano abbissali. Oggi ti pago manco il deposito, 700 euro. Per me prima però erano 7 mila euro di... Per un ragazzo che inizia adesso. Una montagna, diciamo, chissà, qualche perplessità, qualche paura. Paura esagerata. Iniziamo, sai, a vendere marchi sia italiani che campani. Devo dire la verità, per i primi due anni andò... Andò discretamente, andò bene. Riuscivo a prendermi... Ok, quindi non uscivi 0 a 0, uscivi in positivo. No, 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 ma tagliamo in positivo. Qualcosina, eh. Iniziare comunque a vendere, a farci conoscere, avevamo un bel blocco di clientela. Perché mi montai la capa? Certo. Perché è umano, perché succede. Ci sono riuscito, ce l'ho fatta. In questo momento mi vai. Ma monta la capa. Ma faccio mettere un burdello in capa dai vari rappresentanti, eccetera, eccetera. E iniziò ad alzare i prezzi. Perché io credevo in capa a me. Ma tanti mi vengono. Quindi mi hanno fatto, mi hanno fatto i prezzi. Ragazzi, cioè, che cos'era? Proprio, che è successo? Proprio il botto in negativo. Iniziamo a non vendere più. Cioè, iniziamo veramente... Scoppiare la bolla di sapore. Proprio la bolla di sapone. Malissimo. Iniziamo ad avere un cliente al giorno. Un macello vero e proprio. E al che iniziai, appunto, la mia caduta. Quindi il mio fallimento. Si accumulano debiti su debiti con i fornitori e compagnia cantante. Quindi si crea una sorta di giostra negativa. Che io, quello che, insomma, incassavo doveva parare i miei guai, no? Nel frattempo io già ero fidanzato con mia moglie. La conobbi un anno e mezzo prima. Questa ragazza, di due anni più grandi di me, mi innamorai veramente all'improvviso. Colpo di fulmine. Perdutamente. Colpo di fulmine, ma lei è una ragazza anni 30. Cioè, nel senso, ho fatto i nove mesi di corteggiamento, per darmi un bacio, ci siamo misi, nuovo misi. Cioè, quindi veramente è una storia... Vecchia scuola, old school. Ci fidanzai ma casa, penso, accetto ma feste, i dolcetti. Pensa com'è. Vabbè, comunque è bello così, perché proprio, ecco... Cioè, ho avuto la fortuna di avere una donna con dei valori, dei principi. Ecco. Ecco, nobbi lei. Lei già aveva il piccolo negozietto che era Black Lobby dietro a un piccoletto. E comunque lavoriamo, andava bene e compagna cantante. Il mio declino inizia e mese dopo mese andai sempre di più male. Cioè, mi affossai sempre di più. E avevo lei al mio fianco, praticamente, che stava con me. Donna di altri tempi. Io iniziavo a non guadagnare veramente zero. Cioè, guadagnavo zero. Cioè, io non mi portavo stipendi. Un anno, un anno e mezzo, barra due anni, io non mi portavo stipendi. Non potevo portarla a mangiare il panino. Ti giuro su mia sorella che è la cosa più cara che ho. Cioè, sai che Boricero? Non riuscire nemmeno a dargli a offrire un panino. E stavamo chiusi in casa, mia o sua, vedendoci, ci abbuffavamo di Sky, di Chef Rubio. E lei te lo può confermare, se lei leggerà sta cosa, metterà lei un commento. Ci abbuffavamo di ste serie di bu. E ecco, io poi, ecco, mi vengono i flashback di vita, no? E dico, mamma mia, io sono stato fortunato ad avere una donna così. Frate, lei nel fallimento mio, vero e proprio. Fallimento di lavoro, economico, non di valori. Che poi si abbinò a un fallimento di valori, perché poi sono entrato in un periodo depressivo. Lei che è stata sempre vicino a me, non mi ha mai abbandonato. Cioè, lei, l'ultimo viaggio che ci facemmo, che era il Messico, che poi dopo, Go Now è risalito, lei mi scrisse un biglietto, al mio nomastico, e mi scrisse, so come sei fatto, sicuramente questo non lo vorrei accettare, ma questo è un mio regalo. Poi quando guadagnerai, me le ridarai i soldi di questo viaggio. Lei mi pagò un viaggio per il Messico. E non ho vergogna di dirlo, bro. Perché è esattamente il scorno su di chi va a rubare. Infatti. Noi, questo è un fatto di coppia, e lei appoggia... È un gesto d'amore, voglio dire. Cioè, a tutti gli effetti. Perché lei vedeva che io avevo bisogno di... Staccare. Di staccare. Sono andato in depressione in quegli anni, ho fatto pensieri brutti, ok, quindi spero che questa mia intervista possa essere da monito a questi giovani ragazzi che magari qualcosa non gli va bene nella vita, e magari fanno brutti pensieri. Nella vita tutto è risolvibile. E soprattutto qualche gesto impulsivo è solo un gesto egoista, perché non risolvi niente. Anzi, crei del male attorno a te, alle persone che ami e che vuoi bene. Quindi è un gesto veramente da vigliacchi e da cotardi. Qualsiasi cosa negativa si può pensare. Ok, però non stiamo qui a giudicare, perché la mente dell'essere umano è una macchina non perfetta. Come si dice? La capa è una sfoglie di cipolla. Certo, infatti. Non voglio entrare in questi meriti, perché poi vado a toccare argomenti che magari... No, no, ci mancherebbe. Però questa è la tua storia, insomma. È tutto il diritto di dire... Sì, parlo di me in prima persona. Appunto lei, dopo questo viaggio, io decisi di togliere i due negozi, perché ti spiego. Quando io stavo in fallimento di questo negozio a Via dell'Epomeo, ti collego la storia, se no non la capisci. Ok. Il mio sogno con lei era sempre di aprirci un negozio insieme. Allora che è successo? Che un mio amico, Claudio Montola, che menziono, grande amico mio, mi porto quest'affare di Via Toledo, di negozio, senza, insomma, spendere troppi soldi. E ci prendemmo sto negozio. Ci prendemmo sto negozio e chiediamo solo qua. Come ci prendiamo sto negozio? Se gli non deneva una lira? Certo, infatti. Se lo chiedo anche questi qua. La buonanima di zia Maria, una zia di mia moglie, che era una persona, una caposala dei pellegrini, una persona molto... brava, che mi amava, mi feceva lei un prestito di 10.000 euro che poi io dovevo scontare. Quindi ci mi ha detto ma da coppa a rebbe, però per cercare di... di risolvere i miei problemi. Di far quadrare tutto. Esatto. Io dicevo, io mi ho chiesto, il suo magazzino a Via Toledo che è una delle vie commerciali più forti d'Italia. Ho fatto il 13. Lavoro a Via Toledo insieme con mia moglie in società sogno nostro per apparare i guai di Epomeo. E automaticamente, questo sicuramente mi farà apparare i guai perché un magazzino su un negozio su una via così commerciale non lo posso mai fare. fatto bingo. Ma io, un magazzino a Via Toledo è peggio che le vie come me. Cioè, quindi mi accullo, il rebeda coppa al rebeda. Ed ecco la mia depressione. Eh. Di sfumare il mio sogno, sgretolarsi quel castello, cioè, io poi tenivo doppio di problemi. Cioè, io tenivo guai. A Roma Via Toledo tenivo ancora più guai. Cioè, io tenivo più guai che ha capito in capo. Praticamente, sì. Praticamente. Cioè, vabbè, veramente uno sorride adesso a pensarci, però mi immagino lì per lì deve essere stato un momento dove ci fu fatta ferma. Io dormo, oggi dormo di più con mio figlio che è un diavoletto che prima, per esempio, prima dormeva proprio. Prima dormeva 20 minuti a notte perché aveva i pensieri che scoppiava. Chiaro. E quindi, ecco, questa è la situazione della cosa. Continuo con la storia così ti collego il tutto. Poi magari... E voglio capire come è svoltato. Soffrugio. Soffrugio. arrivando. Soffrugio ti tengo in... Ti faccio la... Sospanze. Alziamo un po' l'hype, no? Come nasce questa cosa? Io da grande fedele non ho mai abbandonato la fede di Dio perché quello che ti succede negativo nella vita non deve essere imputato a Dio, a Gesù, eccetera, eccetera, perché loro ti mettono alla prova, ti danno tante prove di fede e tu devi accettarle. Io continuavo a pregare, continuavo a dire per piacere sto subendo il peggio, sto chiedendo in depressione, sto in cura, rischio di perdere tutto cosa, per piacere aiutami. Successe, vado in Messico, faccio il viaggio in Messico, sai, sempre un po' col mago nel petto, però poi decido di levare il negozio di Via Toledo. ok, io mi chiamavo un paio di miei amici cercai la ceditura perché pigliavo la ceditura e poi pagavo i debiti e in tutto questo prima di partire per il Messico io andrei a chiedere una mano a papà, a mio padre. Mio padre, da buon papà insomma, però ovviamente con le sue possibilità ho detto voglio i soldi non ne posso fare perché se tu stai inquagliati tu peggiti però ti posso aiutare con le mie conoscenze avendo lavorato trent'anni a Via Perac ti faccio pigliare i posti fatiche e dovevo fare il guardiano notturno nel parco dove lavora mio padre a 800 euro al mese figurato per me 800 euro ti salvavano la vita in un altro certo mi faccio quindi lo stipendio mio di 200-300 euro in metta parte e piano piano faccio un saldo e stracci di fornitore e mi pago a tutti quanti vabbò comunque il posto si liberava tipo a gennaio febbraio perché doveva andare via questo in pensione ed era estate era estate era maggio-giugno prima di partire è messo per settimare agosto ma poi allora dici io a posto allora da agosto che torno al negozio praticamente che faccio mi metto fuori tutto mi prendo la cittura un magazzino insomma a Toledo che la cittura si prende oggi perché è un posto importante apparo questo do avanti ai fornitori e poi con il mio stipendio che ho prenduto il posto mi fa i debiti praticamente vado in Messico il torno e il 28 di agosto dopo il mio il mio insomma che siamo rientrati da Messico mi metto sul motorino e da via Petrarca da casa di mia mamma fino a via Toledo sai che Boricero mi bevevi lacrime cioè me le bevevo perché dicevo com'è possibile lì mi mangia un guardiano di notte ma a me mi piace sta vita cioè ma che già fa cioè chissà non sono mio vabbè andai là sistemai un po' il negozio ma ritirai perché non aprimo aprivamo il primo settembre e andai a casa mangiai una pennetta a pomodoro fresco e mi addormentai guardi quella è stata la notte che mi ha svoltato la vita magari qualcuno non ci può credere a me te li capirà ma ne passa ecco feci un sogno un sogno un sogno premonito ti giuro sulla cosa più cara che io guarda l'innovazione proprio però io non lo so chi mi venne in sogno se è una figura astratta non lo so se era Dio non lo so ti dico la verità io però quando uno ha fede deve credere e basta mi sognai che praticamente dovevo fare questa situazione col telefonino sai queste storie col telefonino pubblicizzare la mia attività sul telefonino ma non è che mi riceve nella storia parlata mi facevano sta situazione io che feci andai al negozio e iniziai a pubblicizzare con le foto su Instagram che il 2016 in là iniziarono le storie se non mi sbaglio sì 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 prima non inizia e pubblicizzavo queste cose qua che successe io automaticamente ho un problema di mal di testa ho la cefalea Black che mangi pigliate 10 minuti fa diffumatrice tutto a posto pubblicizziamolo è una pillola per il mal di testa perché oggi ho un mal di testa assurdo talmente che tengo un mal di capo forte praticamente sto stunato aziono il cellulare ok e invece una foto era il video e un capo faceva fotografie per me e stazione i video però non dà chi lo vede dice tu mamma mia che è un mal di capo che tu hai in voce mamma mia ma non c'è solo a ritire la casa ma mai avrei un video e stazione fatto un mal di capo cioè tu vabbè lì sto fatto faccio tre bucchieri e disse a mia moglie ma pubblica così è una pazzaria falla e la pubblicai io falla nascetto male i capo il tormentone il primo però pubblicizzai perché io dovevo pubblicizzare la roba per fare fuori tutto certo ma io non so capito niente cioè io tenivo 4.000 seguenti con Instagram ma seguevo mamma papà siamo amici cugini ma io non so cominciare a capire niente cioè iniziarono la gente ad avere interazioni ridevano allora sai dissi ma questo com'è comunque andavo tutto a lungo era martedì mercoledì io finì tutta la roba del negozio in una settimana ovviamente tenevo pure il fuori tutto 5-10 euro però la gente veniva cioè io convertivo e tu capisti che era dovuto chiaramente a Instagram ma io non sapevo niente cioè per me se tu mi parlavi di marketing non sapevo anche che era che era merendino marketing dicevo ma che era questo marketing cioè mi parti una cosa cioè così vabbè però in quel momento tu hai capito dire è questo che devo fare esatto scettima da scaltro scugnizzo quale io sono perché io lo dico podcast amici tic to io sono scugnizzo e vado fiero di essere ho la terza media non me ne vergogno ho scuola di strada attenzione è importante andare a scuola se tornassi indietro oggi andrei all'università però siate spugna apprendete sia dal marciapiede che dalla scuola su questo sono d'accordo che messaggio super positivo così nature bello sì niente vannette tutto cosa cioè se non si capisce niente allora io già esci frutta questa situazione si sta creando un fenomeno io non so non c'è capo non c'è stato uno che parlava un po' social era una cosa nuova io postavo i video cioè praticamente alla gente piaceva mi iniziavano a riconoscere per strada Gigi non male capo o male capo passano fuori a tolito magari non accattavano male però alluccavano male capo cioè tu avevi creato un fatto in quel momento avevi creato una cosa che ti identificava che avevi solo tu in quel momento storico io allora io non sono credente ok io penso che c'è questa situazione come me la stai raccontando è un insieme di duemila fattori di duemila fattori che però è culo cioè capito si mettono insieme è il caso a te ti si sono allineati i pianeti probabile pure che ci siamo incontrati per portarti un messaggio di fede e speranza capito bellissimo che la pensi così però è incredibile perché parlando proprio a livello storico marketing e tutto 2016 è stato il periodo in cui iniziava ad andare forte TikTok iniziavano ad andare forti le storie su Instagram scusami Instagram andavano forti le storie su Instagram iniziava a in Italia arrivare la moda hypebeast supreme scarpe sneakers insomma il vestirsi non uditiva solo visiva era un marketing solo ed esclusivamente visivo il fatto uditivo a parlare a spiegare l'autosic perciò tu hai unito questo cioè tu sei uscito con questo e hai svoltato ho portato la novità ti sei trovato al posto giusto al momento giusto e ci sei saputo fatta ho portato la novità e poi da scaltro scugnizzo quale sono poi c'è l'ho marciato su questa cosa e dell'ho affinata perché io oggi comunque mi sono fatto qualche master di marketing mi sono fatto qualche corso ho comunque seguito delle persone che fanno marketing a grandi livelli e ti dico una cosa quindi non più tanto terza media non più tanto terza media ma sempre perché ecco io ero tra virgolette un ragazzo che apprendeva io oggi parlo inglese parlo spagnolo vado a fare comunque faccio anche una sorta di importazione perché per bypassare dei costi insomma di produzione un po' più bassi vado a produrre anche qualcosa in Turchia come il capospallo eccetera eccetera io comunque parlo inglese lì ok ma caronicamente molti ragazzi che fanno l'università non lo sanno nemmeno l'inglese esatto quindi automaticamente sono spugna cioè riesco appunto a immagazzinare più cose diciamo e quindi appunto riesco a a capire qual è la chiave di lettura 2016 non esisteva chi parlava coppa instagram e questa cosa del marketing uditivo cioè ragazzi se hai creato un fat io poi ero più esilarante nel tempo addietro quindi magari ero anche un po' più napolegno buttavo i vestiti più personaggi ti ricordo più personaggi video bancone in aria perché c'era quel personaggio esaurito che lo facevo male la capa che era venere vestita allora stiva esaurito e buttava il bancone per terra poi ecco mi gettai nella vasca dei capitoni cioè erico per esempio mi guarda e dico ma che hai fatto c'è tu oggi per esempio ma l'hai fatto con consapevolezza no nacque così c'è il mio collaboratore lì cioè in quanto tempo escono i video ma pure al momento cioè non viene preparato cioè c'è frulla capa vabbè ovviamente c'è l'anti viene la capata al momento diciamo faccio questo lo facciamo vai ora sì 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 qualche idea folle però poi ci sono anche i video strutturati ecco studiati la trama e compagnia gara ma i fatti più belli tra virgolette escono spontaneamente quelli che funzionano di più sono spontanei quindi andarmi a chiudere in una vara dove io pubblicizzo i levis perché perché una settimana prima noi vendemmo tipo 400 levis in una giornata Gianni Walk che è il mio collaboratore ricordo anche lui insieme a Gonau andò a prendere sti levis e talmente che ci misero gli occhi addosso la concorrenza Gianni Walk fece un piccolo incidente per gli appigliati sti levis allora io che feci dice aspetta ora mi chiedono da a vara voi pure se mi volete è morto noi siamo più forti voi e voi mi levi se no mi domanda no esatto e quindi là no assurdo e quindi così è nato Gonau così è nato il pazzo dei social Gonau che poi ecco ho iniziato ad affinarmi man mano tecniche comunque di marketing eccetera eccetera ma pensa che prima gente a me mi chiamavano scemo soprattutto i miei colleghi commercianti e io lo dico perché lo devo dire ok prima mi chiamavate scemo ve lo dico in diretta oggi invece mi ispirate a me non voglio dire mi copiate però c'è stato mai nessuno che mi ha mandato un ceste natale a casa a dicere grazie why you ha inventato un qualcosa che noi ci siamo ispirati e o rip o rap faticamo tutto ci mangiamo anche noi esatto oggi se vedi ho un parlato continuo questo tutto io mi sono scocciato posso chiedere una cosa però perché poi me lo sono sempre domandato anche quando vedevo poi le tue storie all'epoca parliamo di anni fa ormai quando tu dicevi concorrente non lascio da mattina eccetera eccetera questa concorrenza senza fare nomi perché assolutamente ci mancherebbe nel pratico che succedeva che faceva allora partiamo dal presupposto che quando io c'ero a viatoleto quando stavo a viatoleto a viatoleto è pieno di di negozi sì non ti faccio nomi no 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 ci mancherebbe dare solo pubblicità c'erano dei negozianti seduti al tavolo di un bar dove praticamente dissero delle cose brutte su di me quando inizia a fare questi video esilaranti e comunque vedevano che io vi indiciavo ci stiva gente eccetera eccetera e dissero questo commercialmente parlando è terminale durerà sei mesi poi da chiuderà serrat oggigiorno io sono diventato un'azienda cioè una piccola impresa perché azienda su chi fattura dai 50 ai 100 milioni in buon e uno ha chiuso praticamente ha ceduto il negozio e un altro si è buttato a fare tutt'altro non più abbigliamento ma altre cose quindi ecco la mia soddisfazione e la mia concorrenza praticamente erano nessuno in generale ma tutte le persone che mi chiamavano scemo che mi sbeffeggiavano si può dire come no che mi che mi mi deridevano che dicevano guarda chi stai guarda stu scemo bello se non mi dici che hai fatto tu chiudere loro secondo te non me lo auguro però è ancora mio secondo te dalle nove del mattino alle nove di sera io faccio una partita una partita commerciale e sono io che devo fare più gol di tutti quanti bello wow e alla fine stai pure giocando a calcio se no te ci stava uno di questi colleghi che si sentiva secondo te sei un po' con la coda di paglia che diceva secondo me ce l'avevo con me uno sì cento duecento trecento storie che mi le mandavano ma gici ma che ste ce l'avevo con te c'è gente che io non vedevo manco perché poi praticamente c'è arrivare a un certo punto ma io mi posso mettere a vedere io le chiamo le blatte sono le blatte perché le blatte si cipano di rimasugli a terra sai di pezzi di pelli di scarti ecc e loro sono blatte sono blatte perché camminano su questa mia comunicazione ok che è andata forte che va forte con tutto rispetto per gli altri no oggi vi nomino non vi nomino non ve li nomino ma li immaginate no sì persone che sono esplose su tiktok nuovo social come sono esplose ho capito dove andare a parlare parlando o non parlando facendo quello che tu hai fatto sei a cinque sei anni fa a pizzo panino certo a marmolata ecco la comunicazione che mi piace è quella di Donato De Caprio sì come no uno dei panini eh i panini Donato un fratellone una comunicazione ignorante fatta con un telefono di cinque euro ok ma che funziona converte in una maniera pazzesca un telefonino così una comunicazione nuova no eh aspetta però l'ingrediente è sempre è vista e stravista la cifattura i mila è sicuro capito ma non che io devo devo dire io ho inventato chissà che che nessuno si è mandato niente io ho riportato soltanto una cosa sui social e mi piacerebbe che la proprietà intellettiva delle persone verrebbe gratificata certo cioè nel senso di dire sì cicci io ho fatto 100 mila però è pure grazie a te e alla tua strategia perché tu hai cominciato a parlare a me questo mi farebbe piacere perché io non devo fare la gara con nessuno attualmente oggi ringraziando Dio do lavoro quasi 30 persone c'ho 7 negozi in piazza più l'ufficio avviato ledo e invece adesso sono gli altri che si fanno la guerra mi viene da pensare questa guerra del ragazzi la guerra del pesce che si fa e che si è fatta su tiktok sui social io penso non ti sei censurato stai per dire una parolaccia no no del pesce ah così si dice pensavo fosse una censura no perché la puoi dire la parolaccia no 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 la guerra del pesce beh ho i pesci vendoli che si mettono a vedere il pesce in questo modo non è dissing non è una cosa dispregiativa voglio capire se adesso addirittura il pesce si vende su instagram letteralmente su tiktok su instagram però devo fare cioè che potenza c'ha il social è impressionante che tu addirittura vendi un bene primario di questa maniera è impressionante ma perché cioè io a volte cerco di capire perché c'è troppa concorrenza perché ci sono troppe persone troppo food troppa gente che vende quel determinato e quindi tu devi far vedere che ci sei solo tu però usando i social capito 2.0 il commercio si è andato a a implementare ma tu scusami ma devi andare via perché se vuoi c'è la metropolitana qua raga si dove qua vicino ok ragazzi è diventato un commercio 2.0 oggi il social è una metodologia di vendita puoi proporre cose secondo te puoi vendere di tutto su instagram e si perché ormai le forbici sono aperte oggi mia socia c'è 65 mia mamma che c'è 60 mio padre che c'è 65 anche loro usano il social quindi vedendo l'articolo che a loro interessa vanno a convertire anche le persone più grandi e le persone piccole perché con l'avvento di tiktok che comunque ha un algoritmo diverso rispetto a instagram è più insomma più un algoritmo aperto e quindi riesce appunto a prendere tutte le fasce d'età dalla fascia piccola alla fascia grande però ecco fatta sempre in maniera pulita elegante napoletana ma mai irrispettosa irrispettosa e volgare io vedo degli scempi cioè veramente aberranti cioè io vedo delle televendite aberranti ragazzi scusate nel frattempo faccio il caffè è passata una vita ok faccio il caffè se no non è espresso no sto pensando una cosa Luigi ma è mai possibile che solo grazie ai social poi tu hai fatto questo boom cioè mi viene da pensare che hai iniziato chiaramente come hai detto tu con tiktok e queste cose perché sei stato il primo a iniziare a fare questa cosa e hai lanciato una moda però poi dico se tu facessi cose se tu vendessi veramente panni stracciati roba di scarsa qualità ti spiego cioè non andresti avanti capito quindi tu hai unito la qualità all'unicità guarda io ti faccio i miei complimenti credimi ti voglio stringere la mano perché sei arrivato ad espormi un pensiero ok complicato complesso perché è quello che io allora la mia bravura in questa situazione è il pensiero che tu mi hai espresso ora tu mi dici perché personaggio social ok ha una una durata di 16 barra 12 mesi una meteora praticamente sei una meteora personaggio social sei una vera e propria meteora cioè nel senso oggi vengono da te vogliono farsi la foto vogliono farsi il video dopo 6 mesi 12 mesi esce un altro personaggio che va di moda ok quindi automaticamente dopo il personaggio tra virgolette va a morire e se tu fondi la tua azienda sul personaggio mediatico devi essere consapevole che prima o poi i fatturati calano esatto dal 2016 al 2023 anche dopo il covid i nostri fatturati sono impennati oggi a bilancio abbiamo 27% in più di fatturato rispetto al 2018 che è stato l'anno più forte di gonau con un negozio uomo aperto oggi con 4 negozi uomo il mio gonau toledo ha fatto il 27% in più al 2018 c'è una cosa che a me è un frid perché perché io mi sono dissociato dal personaggio mediatico il burdello lo faccio sempre perché mi chiamo sempre ancora oggi che ha capito i muri eccetera eccetera ma ho cercato di creare un vero e proprio business su un prodotto low cost ma di qualità ok noi prima di fare abbigliamento e quindi di proporre l'articolo alla gente siamo dei malati di moda Stefano De Martino in un'intervista radio su CRC Campania disse Luigi Go Now è il sogno del ragazzo che vuole fare l'altospendente ma non può è vero noi andiamo a basarci su tutto quello che di più bello c'è della moda quindi andiamo a vederci le sfilate abbiamo appunto delle ricerche in maniera proprio meticolosamente maniacali su tutto quello che sono i mood di oggi quindi andiamo a ricercare articoli dei brand luxury e li riportiamo ovviamente sempre cambiando cambiando il 35 il 40% dell'articolo li riportiamo nel low cost un pantalone che costa 1200 euro ipotesi non lo mettere il ok ok vabbè bippiamo ok non puoi dirlo un pantalone di un brand costoso io lo riporto nel low cost cambiando il 35 il 40% dell'articolo un pantalone che costa 1200 e andano a budicchio te lo porto similare a 20 euro con una qualità pazzesca made in italy e quindi la gente ormai si ok gigino personaggio ma va è strutturata cioè la mia sa che poi il prodotto vale tu stai portando l'alta moda però a livello a livello budget il mio sogno appunto è consacrarmi nel low cost di diventare una catena di negozi oggi ne ho 4 più 2 donne più un ufficio online il mio sogno è aprire dai 10 ai 30 barra 40 punti vendita italia quindi chiudere il cerchio campania e poi iniziare a fare apertura a scaletta dal centro fino al nord quindi ecco qual è stata la bravura mia che voglio farlo con tanta umiltà voglio dire qual è stata la mia bravura voglio enfatizzare la mia bravura quella di scendere dal personaggio social sfruttare la mia valenza dei social quindi il mio seguito ok e catapultarla sull'articolo far capire alla gente che noi siamo più forti a livello di rabbigliamento del loro costo perché abbiamo una malattia prima noi che siamo malati di moda questo ti volevo dire cioè secondo me la tua bravura alla fine è stata la tua passione il fatto che tu sia ossessionato dalla moda e che ti piaccia tu stai o avrai inconsciamente probabilmente all'inizio fatto questo cioè sfruttato la tua passione riportata in quello che ti potevi permettere all'inizio cioè adesso sicuramente ti potrai permettere di crearti un tuo brand luxury per esempio non lo fai perché la tua passione è proprio quella di portare il tuo magari a chi non se lo può permettere insomma alta moda esatto e pensa che noi non sfruttiamo l'online forte come sono io io online non vendo tanto perché non lo seguo perché siamo troppo veloce ai negozi oggi ci siamo inventati un prodotto fenomeno che è la boxy fit ispirata a una base di un grosso diciamo personaggio mediatico ok taglio crop posso farvi vedere al mio collaboratore sì certo togliti il giubbotto e fagliela vedere abbiamo fatto questa filpa che praticamente vieni dietro scavalca masica leva del cappello leva del cappello oppure giratelo non fa vedere la stella di anche voilà ok ecco questa è la boxy fit è mio il telefono chi c'è? chi ha il telefono? è tuo? ah no ok allora non rispondo va bene ecco questa è la boxy fit abbiamo venduto oggi siamo a quanto? 14.000 14.000 felpe why you 14.000 felpe cioè manco un ingrosso le vendite in questa quantità in 4 negozi cioè perché ah che bella abbiamo vedi un crop fit un oversight una spalla ascesa un qua abbiamo quasi un chilo di felpa questa pesa 800 grammi sta felpa cappuccio doppiato interamente felpa fatta in una vestibilità molto particolare che rasenta appunto questo mondo hype americano quindi una felpa drop che a Napoli in Campania non si era mai vista una cosa del genere soprattutto il prezzo a 19,99 made in Italy fatta da me e quindi automaticamente la gente è scepazza io oggi ho inflazionato la felpa non si è venduta una felpa in Campania perché c'era la felpa di Gigi Novo no ma po' si fitte Luigi invece è scopazzo perché tu non ce la fai proprio cioè tu non riesci a non vendere hai fatto la marchetta hai fatto la marchetta live e l'hai fatta proprio unisci pure la passione al tuo dono pure io stavo pensando e poi stavo pensando il fatto che c'era oh ma doveva combinare però me la voglio accattare è bella è bella è bella sì 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 non ce le ho più perché mi aspetto lo scarico di venerdì se no vabbè comunque ve le omaggerò quindi le metterete voi magari in un'intervista di podcast con qualcun altro e mi fate un po' ce lo mangerà ce le ce le vuoi sì 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 ve le faccio vi faccio lo dico in diretta ma sto male eh me la c'era ma che clienti però io ve le omaggio e quindi le fate voi da grande da testimonial esatto mi affascina ancora di più quindi la tua storia stai perché stai unendo vabbè tu nasci quindi unendo mondo digitale sì al poi reale perché quello che mi hai fatto capire come ultimo discorso è che tu sei esploso social sì ma sui social non vendi cioè tu poi alla fine la conversione è tutta reale sì la conversione reale cioè traghetto ok esatto io sono cioè un traghettatore di gente ci sarai riuscito per questo una domandina più personale che io ricordo scusa tu sei non sei live sul mio Instagram vai 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 ti faccio vedere guarda nel frattempo mentre cerchiamo ti posso fare una domanda certo come no come è stato proprio come a livello di emozioni la riapertura via come o poi io ricordo io ricordo io c'ero eh piccola parentesi sì la facciamo un macello cioè là ci bloccano cioè la venne la polizia municipale ci chiuso l'inaugurazione un macello cioè cioè tu hai fatto inaugurazione riaperti io ricordo lo storo fisico e sono venuti a chiudere sì sì non scherzamente vennero in la polizia a chiudere tutto troppa gente cioè la blocca monastra e via pomero per chi non lo sapesse insomma per chi ci segue che non è di Napoli è praticamente una tra le vie commerciali più importanti della città sì è un'arteria diciamo importante super affollata super affollata completamente bloccata l'inaugurazione di Gonao scorri 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 ti faccio vedere scorri c'è la freccetta sulla destra esatto allora metti questa Black Friday sì del 2019 quindi prima del Covid ah ok guarda qua che successe con la conversione diciamo della 9 e 20 affrettatevi 9 e 20 gli altri negozi ancora devono aprire praticamente affrettatevi a prendere cosa che si stanno prendendo tutti questi scorri avanti vedi questa è mia donna porca miseria questa è quella donna sì ah cioè lo stesso giorno sì ah giusto il Black Friday il giorno del Black Friday è stato il delirio in ogni negozio tuo io dico a coloro che mi vogliono fare un dissing contro che magari si ergono ormai i palatini della moda che volessero fare la guerra no cioè ma ma lui è attacchiare ma ce l'ho beh ecco cioè ora mi rende sotturra sceggiata a faticare ma con tanto di umiltà ok Luigi perché è un macer bello voglio sapere voglio sapere da te perché perché succede questo perché vedi guarda cioè non si è mai visto una cosa del genere guarda la gente è fuori ad aspettare guarda là c'è il butta fuori ecco la persona c'ha il butta fuori sì sì quanto sei tu quanto è il prodotto che vedi no io qua penso che è tutto prodotto qua perché è praticamente fatto come qua iato si è un fatto qua di prodotto ok quindi tu guardi che è quello prodotto perché sì perché qua facemmo un cargo su una base di un brand giappo che fu strabiliante la vendita questo cargo vendemmo tipo 2000 cargo nel giro di un maesetto e si accingeva ad arrivare questo periodo del black friday quindi io che feci mi feci una ricerca maniacale del tessuto trovai un tessuto a stock e lo stesso cargo che vendevo a 35 euro lo vendevo nel black friday a 15 euro cioè vendevo la felpa che vendevo a 30 euro a 15 euro cioè i veri saldi veri cose e ci guadagnavo pure perché feci uno stock di tessuto e compagnia cantante cioè questi sono i saldi veri quindi tu riesci a fare queste cose non perché tu vendi la pezza no anzi tu vendi cose anche di qualità perché tu riesci a trovare tu in primis si riesci a trovare l'offerta quindi non puoi fare l'offerta se non trovi l'offerta è conveniente è comunicato bene cioè è un'equazione completa per me la qualità l'offia non esiste cioè per me tenia cioè per me ho un file elite la qualità perché io non margino tanto non margino per 3 per 4 per 5 no io margino meno del 100% ho il 100% ma vendo sulla moltitudine cioè vendendo 14.000 a febba in 3 mesi è come se avessi guadagnato il per 4 su un altro articolo perché vendo talmente tanto che a me il margine basso diciamo argina il poco cioè la quantità alta argina il margine basso capito cioè si sposa bene un condubbio perfetto il fatto è che a me se non è qualitativamente importante il capo in un nuofaccio proprio perché io devo fidelizzare la gente ecco qua abbiamo un altro best seller che è la mia shirt di research fatta su un codone di 24 a 1 questo è un altro best seller io vendo 20-25.000 magliette all'anno di queste cioè quante ne abbiamo fatte solo in collezione estiva 10.000 e poi passa collezione invernale invernale 5.000 e 10.000 la stagione su 15.000 ancora da fornire l'anno cioè quindi punto a vendere 20-25.000 di queste shirt costa 14-99 codone codone 24 a 1 bello croccante la gente se ne compra 5-6 alla volta perché qua ti garantisco 200 lavaggi e la maglia non si scambia non si stringe non si straccia qualità buona per questo ma ti faccio un'altra domanda mi viene in mente un'altra cosa anche perché voglio dire scusami fila fuori se è solo comunicazione bene una volta la seconda volta non torna anche perché a proposito di marketing la cosa fondamentale del marketing è il prodotto alla base che il bello cliente non è quello che compra ma è quello che ricompra e torna noi abbiamo una piramide no cioè all'alto di questo funnel di questo c'è funnel no c'è la comunicazione poi c'è la diciamo vabbè comunicazione e poi conversione certo ma la conversione e dopo viene la fidelizzazione ok perché se un prodotto non è buono io posso comunicare posso vendere ma domani un cliente lo perde invece no noi ci fidelizziamo clientele stavo parlando di 2006 già oggi sono quasi sette anni di attività e noi stiamo comunque aprendo ci stiamo strutturando per diventare ancora più più in espansione ma sempre con tanta umiltà io non non sono un tipo che compro la macchina di 100.000 euro l'orologio di 50.000 euro che ben venga chi lo fa perché è una passione ed è giusto che chi guadagna li spende così ma io i miei ricavi i miei utili li uso per aprire reinvestire esatto io non lavoro con i soldi della banca con i soldi dei prestiti oggi mi autofinanzio ecco vedo l'antico vinaio ha avuto percorsi se non mi sbaglio quell'imprenditore forse che gli finanzia amore e aperture magari io avessi un finanziatore apritei 100 punti e ti metto la firma che me ne facessi una roba gli altri 100 perché guarda che questa lo sai che non è meritocrazia questa perché solo il food deve essere finanziato io mi autofinanzio con l'abbigliamento perché magari gli investitori non ci credono ma io sono una delle realtà più brillanti di Napoli io sono stato premiato come decima eccellenza campana c'è il video qua se vedi dove dove se scorri c'è il video che poi mi viene da pensare troviamolo producer sono curioso nel frattempo cerca vai 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 mi viene da pensare pure un'altra cosa vai vai prima lo hai detto aspetta piano no vai un po' più giù nel frattempo te lo dico tu stoppami quando lo trovi praticamente tu prima l'hai detto non c'è mi hai fatto pensare non c'è la differenza tra alta moda e diciamo il capo no 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 questo magari no può essere strumentalizzata questa cosa qua non è che non c'è differenza ovviamente io ho un capo ipotesi il GCDS che c'ho addosso è normale che lo devo pagare 200-300 euro perché c'è una storicità dietro c'è un'idea di uno strista importante per me è alta moda questa questa sì ci sono comunque spese importanti spese di passerelle di comunicazione uno stilista che è strapagato è normale che io devo andare a comprare un maglione 300 euro anzi io sono il primo che compro lusso ma per poi riportarlo nel low cost è normale che io non ho tutte queste spese però ti faccio un esempio io oggi ho prodotto una maglietta su un cotone 32 questo 32 lo producono i più grandi brand le più grandi aziende mondiali che significa 32 io non sono pratico non ne capisco sono grammature di tessuto ok che tu vai a riportare sulle scelte per esempio sulla felpa 330 grammi ok ah ecco ne sa lui ci ne sa che cazzo se non ne sapesse non l'avremmo fatto sulla sedia questa sedia qua però sono io che non ne capisco niente qui dicevo sentivo questi numeri di che sta parlando ecco per esempio il gin si viene fatto sulle once ok il peso delle once è tutto capito una tu ci verdi proprio la testa ma mi piano ossessione ossessione no devi andare sopra 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 ma se non sbaglio l'ho visto anche la miniatura prima sopra sulla sinistra sopra 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 aspetta vai piano vai sopra decima eccellenza campana decima eccellenza campana è tanta roba vai 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 che poi questa decima eccellenza campana cioè è generica fermati sulla sinistra quello là forse no vai vai sopra bellissimo ragazzi sopra 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 wow aspetta vai sopra ancora non pensavo ti dico la verità no infatti perché questo è un bellissimo video questo qua quello però è stato pensato comunque vabbè comunque comunque è bello sentire sempre queste storie di rival ci piacciono tanto da zero arrivare a tutto perché per me sei arrivato a tutto perché se tu adesso lavori con la tua passione in questo modo per me ce l'hai fatta è sempre bello cioè ti riempie l'animo sentire queste storie è bello soprattutto sentire una persona grata per quello che ha io prego ogni giorno vedi anche se uno non può condividere però io ti ringrazio ogni giorno per quello che mi dà ringrazio il pubblico di Napoli e non solo che mi ha reso insomma oggi quello che sono io sono debitore al massimo a tutta la gente che appunto mi ha incoronato come fast fashion insomma uno dei fast fashion più interessanti no più bravo più interessanti di Napoli ecco ti spiego allora l'autofinanziarse io non compro la macchina di 100.000 euro l'orologio di 100.000 euro io investo con i miei profitti con i miei guadagni per aprire altre attività quindi mi autofinanzio e questo come prima magari non potevo mettere 5.000 euro di capitale a terra oggi invece diciamo che mi strutturo in maniera cioè qua rischio perché autofinanziare vuol dire rischiare però ecco quando faccio le aperture ci penso 10.000 volte faccio dei sondaggi di mercato a proposito io prima ho detto una cosa nel senso ti ho chiesto se tu in quel periodo insomma un po' più buio quello iniziale poi tra l'altro quindi ancora Ben Bengal che ha avuto due palle non quadrate cubiche se avevi paura e tu mi hai risposto uh come no ci mancherebbe non dormire la notte oggi che la situazione non è che è cambiata si è ribaltata hai ancora una paura ovvio è normale ma la paura è quella che ti fa che ti fa andare avanti perché se io mi fossi accomodato adagiato sugli allori praticamente non avrei questa questa fame che ho ancora oggi io oggi sono sempre un giggino una volta che ha da avere come ha da fare per farciare solo cioè io la penso così oltre al fatto che io sette anni sei anni di dibalta tra virgolette commerciale credimi ho veramente mi sarei potuto montare la testa in una maniera assurda no potevo invece io rimango sempre la persona che sono e soprattutto non mi posso mai montare la capo sai perché? perché si vaga tu a mia mamma e mio padre vaga a casa da nessuno e se fanno i bulletti per arrivare a fine mese se io mi posso atteggiare dopo ritorno con i piedi per te perché la mia realtà è sempre quella là ragazzo figlio di operaio che magari ce la sta facendo a ritagliarsi un po' di spazio a Napoli che è una città abbastanza difficile per fare impresa Luigi l'hai conclusa tu nel senso vi voglio abbandonare perché comunque andate di fretta abbiamo fatto una grande chiacchierata stiamo a mangiare un bando ci vuole grazie mille e poi Luigi ti volevo ringraziare perché nonostante le difficoltà sei venuto qua da noi e ci ha fatto super piacere io concludo nel dirvi come ho detto già a Marco che io sono onorato di partecipare a queste iniziative di giovani ragazzi talentuosi come voi grazie che si stanno cercando appunto di creare un bel fatto a Napoli e quello che io auguro a me lo auguro mille volte per voi perché Napoli è una città con dei talenti veramente assurdi e in tutti i campi siamo scarti siamo scugnizi siamo intelligenti ed è giusto che Napoli venga portata in alto per i talenti che ha e non solo per il trash e per le cose cattive che dicono su Napoli Napoli è una città talmente bella che potrebbe essere la città più importante del mondo perché abbiamo tutto paesaggistica bellissima food abbigliamento cultura cultura abbiamo tutto vero e noi napoletani dobbiamo fare questa cioè dobbiamo cercare appunto di fare questa missione di portare Napoli in alto e come sono giovane io siete giovani voi e io vi auguro veramente il meglio dalla vita e che ci beviamo fra 10 anni e mi ospitate in un ufficio di mila mila metri ci risiediamo tutti e tre in televisione in radio e ci beviamo un caffè e non amacimmo l'intervista ci beviamo solo un caffè che bello grazie grazie